torna bra grande tal cinema per la rassegna dedicata agli over 60 proposta dall'amministrazione comunale attraverso cui è possibile assistere a quattro spettacoli cinematografici pomeridiani al costo complessivo di 10 euro il primo appuntamento per riflettere e sorridere sugli anni che passano e in programma per lunedì 25 febbraio alle 15 e 30 al cinema vittoria con la proiezione di colpi di fulmine di neri parenti grande tal cinema giunta ormai alla sua sesta edizione prosegue con la pellicola su margaret toucher high on lady il 4 marzo la satira di via italia di massimiliano bruno l'11 marzo e la commedia francese e se vivessimo tutti insieme di stefano robellin il 18 marzo gli appuntamenti davanti al grande schermo iniziano tutti alle 15 e 30 presso il cinema vittoria di via cavur gli abbonamenti per la rassegna sono in vendita presso i centri d'incontro via montegrappa via madonna di fiori bescurone oltre ferrovia pollenzo bandito al centro interparocchiale pensionale all'arci unitre e presso la sede delle organizzazioni sindacali cgl cis will maggiori informazioni telefonandolo 01724383 336 della ripartizione socio scolastica comunale di bra un aiuto alle parrocchie arriva dal comune che ha deliberato un contributo alle parrocchie di san pietro nel capoluogo di 15 mila euro altrettanti per quella di san grato a bricco l'amministrazione comunale di alba guidata al sindaco maruizzo marello aderito al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo anche il sindaco di bra bruna simille afferma necessaria una diversa regolamentazione che dia più voce ai comuni un documento con il quale i sindaci sottoscrittori chiedono una nuova legge nazionale sul gioco d'azzardo fondata sulla riduzione dell'offerta e il conintenimento dell'accesso con adeguata informazione un'attività di prevenzione di cura chiedono leggi regionale dove siano esplicati impegni e compiti per la cura dei giocatori patologici per la prevenzione dei rischi d'azzardo e per il sostegno alle azioni degli enti locali chiedono potere di ordinanza sull'orario di apertura delle sale da gioco potere di stabilire la distanza dei luoghi sensibili ad esempio scuole ospedali e possibilità di esprimere parere preventivo sull'installazione dei giochi d'azzardo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti